Secondo maxi sequestro in meno di un mese ad opera del comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi, 1.700 i chili di marijuana rinvenuti questa volta nella serata di ieri a 15 miglia a nord della costa di Brindisi. In manette sono finiti 5 narcotrafficanti albanesi, alcuni dei quali con precedenti specifici. Erano le 5 del pomeriggio di ieri quando le fiamme gialle su segnalazione della capitaneria di Porto di Brindisi hanno raggiunto lo scafo di 5 metri a largo della costa. Il mezzo come riferito da un peschereccio italiano era in avaria. Gli occupanti si stavano liberando del carico quando i militari con un massiccio di spiegamento di forze hanno bloccato e tratto in arresto i 5 albanesi nonché recuperato i 36 sacchi di sostanza stupefacente. A bordo del mezzo sono stati anche rinvenuti 39 proiettili di Kalashnikov. È facile ipotizzare, è stato spiegato questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sede del comando provinciale, che ci possa essere un collegamento con il maxi sequestro del 16 febbraio scorso, quando sempre le fiamme gialle, lo ricordiamo, rintracciarono sulle spiagge fra Ustuni e Fasano 1500 kg di droga. Il valore della marijuana dovrebbe ammontare almeno a 12 milioni di euro. Gli inquirenti stanno lavorando per verificare la provenienza della droga e di possibili collegamenti con il territorio. Il canale Toronto è una zona a rischio, il territorio brendisino è il rischio di traffici illeciti. Però anche in questo caso le istituzioni hanno funzionato e dirò di più, ha funzionato anche il rapporto con i cittadini. Abbiamo avuto un comandante in moto peschereccio che praticamente ha individuato questa barca ferma in mezzo al mare e ha prestato soccorso. Correttamente però ha anche avvisato del soccorso in atto gli organi competenti. La credita di porto si è portata sul posto, ha acquisito elementi tali che lasciavano intendere che ci fosse un traffico illecito, ha avvisato quindi la Guardia di Finanza che è la Forza di Polizia Economica e Finanziaria predisposta al contrasto di questo tipo di traffici illeciti soprattutto al mare e l'intervento immediato tempestivo degli elicotteri e delle motovedette veloci ha fatto sì che da un lato c'è stato un soccorso ben prestato, nessuno si è fatto male, tutti sono tornati a casa, ricordiamoci che queste persone erano a largo a 15 miglia dalla costa. Dall'altro abbiamo cinque narcotrafficanti che sono stati arrestati e dal mercato è stato tolto un ingentissimo quantitativo di droga di un valore straordinario che si avvicina insomma ai 12 milioni di euro. Comandante, dunque un'operazione brillante, come si è articolata? Noi abbiamo avuto una segnalazione, abbiamo ricevuto la segnalazione dalla Capitanina di Porto. Immediatamente le nostre unità, un elicottero da Bari, un 109 e le unità velocissime nostre da Brindisi sono uscite e si sono portate sul posto e questa avvicinamento così rapido ha consentito di impedire che i trafficanti buttassero al mare tutto il carico e quindi magari che il carico potesse andare a fondo. Per cui abbiamo recuperato tutto il carico di marijuana che loro in parte cercavano di buttare al mare, c'erano 39 proiettili di Kalashnikov che lascia presupporre che loro potessero avere a bordo anche delle armi delle quali magari si sono disfatti proprio prima del nostro arrivo. Per cui questo dimostra ancora una volta la grande pericolosità di questo tipo di traffico. Grazie.